Flavio Bartolini, dalla riunione di ieri sera, finita a tardanotte, oggi i giornali riportavano che si era trovata finalmente questa famosa sintesi intorno al nome di Giovanni Cavallari. No, sarà stata qualche deduzione di qualche giornalista perché assolutamente non si è parlato di Giovanni Cavallari. Abbiamo parlato invece di liste, abbiamo compilato un paio di liste per il PD, quindi noi andremo con il nostro candidato sindaco che scioglierà tra un paio di giorni nella riserva, abbiamo individuato anche il candidato sindaco e quindi stiamo lavorando in questa direzione. Noi andiamo con le nostre due liste, il nostro candidato sindaco, chiederemo di nuovo agli altri dell'area di centro-sinistra se vogliono formare questa coalizione, se ci ripensano di nuovo, però noi mettiamo sul piatto due liste e un candidato sindaco. Adesso la palla la passiamo agli altri, decidessero cosa fare perché noi siamo andati prima da loro a chiedere le primarie, a chiedere in una coalizione, non si è trovato ancora la quadra, quindi noi andiamo avanti e aspettiamo adesso cosa faranno loro. Quindi niente primarie, avete già individuato un soggetto sostanzialmente? Abbiamo individuato il nostro candidato sindaco, interno al PD, se e poi ripenseranno di nuovo perché ci richiederanno, no rifacciamo le primarie, vediamo, ma possiamo quasi escluderle perché non c'è più tempo e poi i cittadini non ci credono più alle primarie dopo tutto quello che è successo negli anni. Quindi facciamo il punto della situazione, Cavallari non è, Dalberto va da solo con le civiche e poi il PD va con un altro candidato, quindi è questo l'assetto per l'area di centro-sinistra per le amministrative? Sì, abbiamo il nostro candidato con le nostre due liste, poi gli altri se si vogliono aggregare benvenga, apertissimi, anche perché hanno il nostro programma, non ci sono differenze di programma. E' una persona nuova, chi è? Dateci qualche indicazione. E' lei? No, 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 assolutamente non sono io, questo lo avevo smentato, anzi ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici che mi hanno chiesto di candidarmi, però diciamo per problemi personali preferisco... E' Renzo Di Sabatino allora? No, 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 assolutamente no, ancora non sappiamo nulla. Nessuna indicazione su questo candidato del PD? No, non è mio compito farlo, insomma, non è mio compito, quindi tengo molto alla disciplina di partito, quindi non è assolutamente mio compito, aspetterete 36 ore, 48 ore e poi vedrete sia i nomi sulle liste sia il candidato.